È considerato un evento speciale della Presidenza italiana del G20. Si tratta del IV Forum Internazionale del Gansasso, che si svolgerà all'Università di Teramo dal 30 settembre al 2 ottobre. La presenza di 17 rettori africani, dei ministri italiani, Bianchi e Messa, del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, lo rendono davvero un'occasione unica di incontro e progresso comune. Il tema di quest'anno è allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale. Una visione coinvolgente e concreta, come spiega Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo e motore dell'iniziativa. Sono convinto che il mondo accademico della ricerca è chiamato a fare un passo in avanti, a dare uno slancio ulteriore, perché l'esperienza anche della pandemia, ma non solo, impone una nuova riflessione sulla capacità interpretativa della realtà. In questa tre giorni di riflessioni, il Forum Internazionale del Gansasso si snoderà attraverso 22 sessioni parallele, animate da oltre 300 relatori nazionali e internazionali, su diversi temi, tra i quali l'agroalimentare, i beni culturali, l'ambiente, la veterinaria, la medicina e la salute. Teramo al centro del mondo. Teramo cerca di esserlo sempre, al centro del mondo, con la sua università, con la sua università piccola, che guarda il territorio ma ha una proiezione costante e continua a livello internazionale. Quindi torniamo al centro con il quarto Forum del Gansasso, un evento molto, molto importante, con numeri impressionanti. Ricordo soltanto la presenza di 17 rettori africani, ribadisco la presenza, quindi nonostante il Covid, quindi di nuovo i riflettori sulla carta di Teramo, sulla cooperazione per lo sviluppo, che sono uno dei nostri obiettivi più importanti, insieme al rilancio, sia sociale che economico, post-pandemico. Presidio stabile dell'aslo di Teramo all'università per tamponi e vaccini in questi tre giorni di Forum. Saranno garantiti così Green Pass ai rettori africani, ospiti dell'evento.